La mostra è stata voluta dal nostro Vescovo, Monsignor Ciro Miniero, come un invito a rimettere al centro della nostra attenzione la Bibbia come parola di Dio, in modo che noi possiamo maggiormente accostarci a questo libro di vita perché contiene ed è la parola di Dio rivelata. Si articola in tre percorsi, un percorso storico, quindi che ripercorre le tappe del cammino del popolo di Israele e la trasmissione del testo biblico. Il secondo percorso è il percorso bibliografico, vedremo, anzi vediamo edizioni rare e di pregio della Bibbia che hanno determinato gli eventi della storia e il terzo percorso è un percorso iconografico, incisioni a stamba di grandi maestri che hanno illustrato molte edizioni della Bibbia. Io partirei dal titolo di questo evento, dal conflitto all'unità, tutto è ingendrato indorno alla Sacra Scrittura, perché se la Bibbia è stata fonte di divisione con i fratelli protestanti, questo evento ha una valenza di auspicio profetico, cioè come la Bibbia è stata fonte di divisione con gli altri cristiani, possa diventare fonte di unità. Quindi questo è il motivo, il significato. E poi c'è da dire anche una cosa importante, il 2017, questo evento che, lo dicevamo precedentemente, ha uno spessore di fede ecclesiale, culturale, ha come cornice il 2017, perché è un anno particolare, innanzitutto è il quinto centenario del Nuovo Testamento in greco di Erasmo da Rotterdam, e poi anche il quinto centenario della riforma protestante. Che cosa vediamo nella mostra? L'importanza sia religiosa che culturale. L'ho sottolineato, anche per chi non crede, per me che sono credente, certamente mi accosto alla Bibbia riconoscendola come parola di Dio, però per chi non crede, quindi questo evento ha un forte spessore culturale. Innanzitutto che cosa vediamo all'interno della mostra? Il Nuovo Testamento in greco di Erasmo da Rotterdam, la Bibbia di Lutero, il discorso di Lutero sulla messa che gli costò la scomunica, e poi una Bibbia anglicana in inglese, la King James, questa è un'edizione della Bibbia che ha costituito nel corso dei secoli il riferimento per il mondo anglosassone, e su questa Bibbia i testimoni di Geo hanno tradotto la loro Bibbia.